benvenuti a tutti quanti e oggi affronteremo nel nostro video seminario il rendiconto di gestione in particolare avremo un programma ben corposo articolato in due diverse parti la prima parte relativa ai nostri nuovi equilibri di bilancio da dover redigere il prospetto a uno a due a tre il riaccertamento dei residui il fondo crediti di dubbe esigibilità in sede di rendiconto con le eventuali nuove novità che andremo poi a sviscerare e la seconda parte invece quella un po' più corposa dove invece andremo ad affrontare il risultato di amministrazione tutti i suoi relativi fondi l'avanzo di amministrazione la formazione gli accantonamenti i tipi invece di disavanzo di amministrazione con i relativi trattamenti e come ultimo argomento ma non meno importante il fondone covid e il riparto ai comuni grazie a tutti i